La Dinamo Banco di Sardegna rientra al torneo City of Cagliari con un terzo posto che dà soddisfazione al roster di coach Pasquini. Impegnata contro tre formazioni di Aerolega, ben figurato. Sconfitto nella giornata di esordio dal Lokomotiv Kuban e battendo i tedeschi all'Alba Berlino per la filanina del terzo posto. Un impegno arduo per continuare nella preparazione in vista dell'esordio stagionale in campionato previsto per il prossimo 3 ottobre in casa contro Varese. Il City of Cagliari è stato vinto dal Galatasaray in una finale che ha mostrato al pubblico di Cagliari basket ad altissimo livello. Ottima come il solito l'organizzazione della FIP Sardegna con a capo il suo presidente Bruno Perla.